Prendiamo atto che un pesante insulto sessista fatto al Senato a una collega vale molto meno che una battuta per quanto qualcuno possa ritenerla infelice, ma legata all'ignoranza che è oggettiva da parte della Presidente della Camera sulla gestione e l'incapacità sulla gestione dell'Aula. Ci sono stati rifilati a Max Fedriga, al capogruppo 15 giorni, per aver protestato sulla incapacità oggettiva di sapere anche solo leggere il regolamento da parte della Boldrini. Io penso che questa disparità, al di là di marcare una differenza su un atteggiamento che se qualcuno tocca la Boldrini, oddio, così cosa succede, invece se qualcuno offende una qualsiasi donna possono essere derubricati solo 5 giorni. Ma al di là di questo penso che c'entri qualcosa anche la nostra richiesta, che ormai è vecchia di un mese, di sapere da parte della stessa Boldrini, da parte del Presidente della Camera, quanto costa la sua struttura faronica, quanto costano i suoi amici e le sue amichette che ha assunto dall'esterno, nonostante ci siano migliaia di dipendenti strappagati e capaci all'interno della struttura della Camera. Ecco, a pensare male si fa peccato, ma secondo me, avendo fatto questo tipo di battaglia, la Boldrini forse oggi ha voluto punirci anche per questo. Noi non ci arrendiamo, andiamo avanti e fin tanto che non verranno fuori questi numeri, continueremo a rompere le scatole, anche perché noi, le persone ignoranti, come delle capre, a livello di gestione delle massime cariche dello Stato non ce le vogliamo.